Shalom a tutti L'altrebbe L'autore del Tanya Ha detto una volta Il Rashi Che è un famoso commentatore francese Che ha fatto un commento sia sul Chumash Che sul Pentateuco Che sul Talmud Allora l'altrebbe ha detto così Il Rashi sul Chumash È il vino della Torah Apre il cuore E rivela L'amore essenziale E il timore essenziale Che noi abbiamo per Dio Il Rashi sul Talmud Apre la mente E rivela L'intelletto essenziale Per cui per Rivelare l'amore e il timore nascosto Che abbiamo per Dio Bisogna studiare Chumash con Rashi Come abbiamo detto nei giorni precedenti Il Il 25 di Shvat Abbiamo studiato questo Che studiare ogni giorno La porzione Del 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 Humash Da settimana Questa è una cosa che protegge Te e i tuoi figli e i tuoi nipoti E poi Se uno vuole affilare un po' la sua mente Deve studiare il Talmud È interessante che In Corea Hanno fatto questi studi Queste ricerche Hanno visto che il popolo ebraico Sono molto indirigenti E hanno capito perché Hanno scoperto Secondo loro Le loro ricerche Il motivo sta nel Talmud E di conseguenza Hanno deciso di studiare il Talmud E loro lì insegnano il Talmud Nelle scuole Dappertutto E sono pure venuti in Israele A vedere le Shvat Perché a vedere Come noi studiamo il Talmud Per cui chiaramente Rashi del Talmud Affila la nostra mente E rivela l'essenza Del nostro intelletto Shabbat shalom a tutti Questo Shabbat È l'ultimo Shabbat del mese E dunque Ognuno di noi È giusto che si alzi presto Domani mattina E recita tutti i salmi di Davide Chi non ha un libro di salmi Può trovare Su internet Diversi Cose I salmi Si possono stampare Prima di Shabbat Scaricare e stamparli Prima di Shabbat Così che Leggiamo Shabbat Senza commettere Nessuna trasgressione E Veramente Una cosa importante Se uno si allena un po' In un paio di ore Si finisce tutti i salmi Chi è più lento Ci mette 3-4 ore Però È un investimento valido Con Assicurato È assicurato Da Dio Per cui Questa è una cosa Che porta una grande invenzione A noi I nostri figli I nostri nipoti Materialmente Sperito Viaggo Shabbat shalom Sperito